Salve a tutti e ben ritrovati, siamo anche su Youtube, ricordatevi di iscrivervi al nostro canale e di attivare le notifiche per non perdere gli aggiornamenti, avremo un fine settimana che vedrà una nuova perturbazione avvicinarsi al nostro paese da nord-ovest porterà piogge, in particolar modo sull'Italia settentrionale, sulle regioni del versante tirrenico, la Puglia invece verrà interessata soltanto marginalmente, qualche incertezza arriverà proprio nel giorno della festa dei lavoratori, domenica 1 maggio, il tutto in un contesto termico che vedrà ancora temperature prettamente primaveribili in perfetta linea con il periodo, vediamo quindi nel dettaglio con l'aiuto dalla grafica quello che accadrà in Puglia tra oggi e domenica e infatti il fine settimana partirà l'insegna del bel tempo con poche nubi nella giornata di oggi, ventilazione debole dei quadranti settentrionali e temperature che saranno in linea con il periodo con valori intorno ai 20-22 gradi, rimarrà quindi ancora un po' di fresco a causa proprio della ventilazione settentrionale. La giornata di domani, sabato 30 aprile, avremo un lieve aumento delle temperature e un leggero calo della ventilazione, valori massimi compresi tra i 21 e i 24 gradi, le minime non subiranno variazioni di rilievo quasi ovunque al di sopra dei 10 gradi centilidi con picchi di 14 gradi sul salento. Chiudiamo con la giornata di domenica, 1 maggio, festa dei lavoratori, avremo una giornata nel complesso discreta con alternanza di nubi e schiarite, ventilazione dai quadranti settentrionali di debole intensità. Nel corso del pomeriggio aumentano le nubi sul foggiale del nord parese, dove nel corso delle ore serali è possibile anche qualche piovasco. Sul resto della regione invece avremo ancora variabilità, temperature che saranno tutto sommato stazionarie, se ne valori massimi, che in quelli minimi, ma la perturbazione che domenica interesserà gran parte delle regioni settentrionali e centrali, raggiungerà la Puglia nella prossima settimana che vedrà il ritorno anche delle piogge. Di questo vi aggiornerò come sempre lunedì. Grazie per l'attenzione, buon weekend!